Anaf Solar è una società che fa capo al gruppo Anaf S.P.A. Anaf S.P.A. è una società che si occupa di sicurezza. Anaf Solar è una società, è una brand del gruppo che si occupa invece di energie rinnovabili. Che cosa ha pensato di fare Anaf Solar e di presentare al SAI del 2010? Ha pensato di rendere fruibile un sistema già conosciuto, quindi un sistema fotovoltaico integrandolo con un vero e proprio scambiatore in grado di pilotare sotto profilo termico il pannello fotovoltaico quindi rendendolo molto più performante rispetto a un sistema tradizionale, rispetto a un pannello fotovoltaico tradizionale e contestualmente ho la possibilità con questo matrimonio fra pannello fotovoltaico e sistema di raffreddamento di raccogliere una quantità enorme di energia termica che altrimenti andrebbe dispersa nell'ambiente peggiorando tra l'altro le prestazioni del pannello fotovoltaico stesso. Quindi il matrimonio, ripeto, pannello fotovoltaico con uno scambiatore a bordo del pannello garantisce delle prestazioni incredibilmente maggiori sotto profilo elettrico del pannello fotovoltaico e garantisce il fabbisogno termico e di acqua calda sanitaria per una famiglia sia durante le condizioni più favorevoli, quindi le mezze stagioni piuttosto che l'estate sia durante le condizioni un pochino più sfavorevoli, quindi durante l'inverno. Quindi un matrimonio fondamentalmente votato alla Green Energy quindi investo su una tecnologia sicuro che questa tecnologia riescirà a darmi negli anni ad avvenire fondamentalmente due cose importantissime, quindi energia elettrica e energia termica da fonte rinnovabile senza quindi inquinare, abbattendo in maniera verticale costi e invece con un effetto leva sulle prestazioni e sul risparmio in senso generale decisamente incredibili. Per saperne di più io non soltanto invito tutti coloro i quali avevano la bontà di seguirci e la cortesia di seguirci, invito gli interessati a fare visita al nostro sito quindi www.anafsolar.eu e di venirci eventualmente a fare visita presso il nostro stabilimento a Torre d'Isola in provincia di Pavia dove tra l'altro c'è la possibilità di vedere un impianto già perfettamente funzionante e di poterne toccare con mano immediatamente caratteristiche, performance e punti di utilità. Grazie e buon lavoro.